Credo che non si possa andare avanti, non so quanto democrazia vuol essere giusti, è un sorta di dovere, non venire qua, direi no, così non... Pensi che tu come giovane possa fare qualcosa? Ritengo che forse stando qui già si può fare qualcosa, dicendono ogni volta, sentire che non è inutile, anziché utile, venire anche se rischia di diventare rituale, può sembrare rituale, però invece è importante essere costante e non demordere, mettere avanti. Cosa ti ha colpito di più di questo assassino? La cosa che più mi ha colpito è che se starò qui dentro, io sto all'università e vedere in un luogo dove sono quasi tutti i giorni, sono spesso, vedere che questa gente possa permettersi di entrare dentro una facoltà, uccidere di fronte a studenti e assistenti e scappare.